10 dicembre 1948. Viene firmata a Parigi la Dichiarazione universale dei diritti umani. La dichiarazione fa parte dei documenti di base della neonata Organizzazione delle Nazioni Unite e rappresenta il punto di partenza di molte delle conquiste civili avvenute nel dopoguerra. I principi che vi vengono enunciati saranno ripresi nel 2000 nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.